ciao a tutti ragazzi sono l'unico e solo e oggi siamo tornati su clash royale e ho deciso di fare una cosa un po particolare siccome ogni tot la supercell riasce delle carte ho deciso che le ultime carte siccome tutti dicono fanno schifo fanno schifo fanno schifo le proverò in diretta sono le ultime carte aggiornate al 22 aprile quindi non so se poi magari 23 c'è una nuova carta non ha più pari idea queste sono le ultime carte uscite e io proverò un mazzo con solo le ultime carte uscite insieme a voi vediamo cosa succede farò due partite ammazzo molto pesante quindi devo stare molto attento a cosa butto perché poi non butto più niente se no subito il mastino voi butto delle reclute a casa tanto per dar fastidio raga il mastino farà il devasto secondo me se poi ci butta altre truppe aeree siamo nella cacca fino al collo esatto siamo nella cacca fino al collo palla di neve e fermiamo quei pippi minchia poi no 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 subito la mongolfiera che palle no 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 raga quella sta succedendo no 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 drago elettrico fai qualcosa fa niente il drago elettrico è inutile si raga chi dice che il drago elettrico fa cagare ha perfettamente ragione gigante goblin subito però mascalzone nel frattempo un po di anni fa secondo me mascalzoni sono una carta fortissima adesso vediamo quindi il tank che cosa succede nel frattempo non appena potrei approfittarne approfittiamo della della difesa l'altro lato per pushare subito se esatto così subito con il drago elettrico counteriamo quella cazzo di mongolfiera che non la counteriamo per niente però va bene e direi subito di partire con una bella domatrice di arieti che dal devasto palla di neve vediamo se riusciamo a farle fare almeno una hit forse anche due si due hit due hit dai se almeno due hit le abbiamo fatte con la domatrice raga la domatrice è forte mascalzoni sono forti poi il resto fa pena ma con i mascalzoni vediamo se tipo riusciamo a combinare qualcosa contro quel mastino e mi va a devediro eh si se poi metti poi gli sgarri dietro è finita i cuccioli lavici mi fanno il devasto i goblin lancieri sulle spalle non fanno niente l'unica cosa che ho servito quel coso lì è per tankare nooo no 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 si va beh che queca tirare da resta partita tu bello minchia l'aga non v'hai nemmeno rosso conto le quelle di signora fatta o forse sì non lo so non lo ricordo ma alla donatrice è andata scialla e ha fatto giù la torre un terremoto baure che un terremoto gigante royal, bella, pensavo peggio prossima, non possiamo mai fermarci vinci dieci volte con questo mazzo non vinco neanche una prossima partita ne facciamo solo due raga, ma giusto per vedere un po' come vanno, reclote royal subito tentiamo di fermare tutto cioè di fermare tutto, non c'è un cazzo in campo cosa volevo fermare raga io l'unica difesa area che c'ho è il drago elettrico e i lancieri che sono dietro al gigante goblin, ma quelli per favore, cioè se vogliamo considerare di difesa porco zeus ok subito con lo stregone elettrico, lui è un infame di merda ah, pure con il domatore di cinghiali, se vediamo almeno di fargli, di limitare i suoi danni il più possibile, ok danni limitati perfetto, adesso c'ho un asso nella manica, che è lei la buttiamo e speriamo che non ce la facciano giù oh oh oh, potrei fare così terremoto proviamo la terremoto è l'ultima carta uscita e fa palesemente pena supercell, ma dovete tornare i tempi in cui creavate lì l'acere magico, creare una carta forte cioè, non potete creare queste merdine qua dai vai ma scalzone, fai un po' di danno a quel domatore lì perché se no ci perdiamo la torre che schifo devo dire che schifo cioè, non ho altra scelta parla di neve è palesemente inutile perché ho buttato l'aeclote così, visto che il cavaliere dall'altra parte non ne aveva pari la idea ma tanto i miei aeclote sono al 12, quindi bene o male dovrebbero riuscire a fermarlo ma il coso là non lo fermano di certo hehehehe un'aeclote c'è arrivata purini però mi fan pena l'aeclote vabbè, subito d'argo elettrico fermiamo lì il cazzone di gomma palla di neve per fare un po' di danni il gigante cavaliere mi ha fatto un po' di male ma non importa perché subito eeclote andiamo a fare giù gli stregoni e possiamo ripartire subito con una domatrice, raga è il mazzo più stupido della storia raga quello lì è un glitch fantastico la domatrice che salta il tronco raga abbiamo fatto una torre, abbiamo fatto una torre dai dai ripartiamo sulla seconda, ripartiamo sulla seconda, subito raga raga possiamo fare la storia in questa partita possiamo o fare schifo o scrivere la storia di Clash Royale dipende tutto da come ce la giochiamo e direi che se ce la giochiamo bene quella domatrice arrivava alla torre era nostra questa partita però palesemente non era nostra perché abbiamo ammato schifo va bene, io vi saluto spero che abbiate capito quanto fanno pena le ultime carte uscite su Clash Royale Supercell fai qualcosa di intelligente perché veramente non si può giocare con delle carte così fai delle carte buone noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti